Vogliamo ringraziare questa casa e questa famiglia Allora adesso, no, no, dai da un attimo Lo dico forte che per tutto il mondo si sente e risuona che la più bella signora si chiama Cecchina Si chiama Cecchina e con questo rinfresco e con questa serata io la saluto adesso che la finestra si è affacciata A Gaetano, valente mulatore a 300 case vorrei... A Gaetano, valente mulatore, vorrei lasciare altri 100 case da edificare E dopo tutto questo liquore io ve lo dico con il cuore A Davide e Giorgia è arrivato il momento Ve lo ripeto ancora, del matrimonio è giunta l'ora Pronta, io a Davide le voglio ringraziare Oddio che è arrivato il momento di finale